Mi pare che sia un risultato di piena soddisfazione, soprattutto per quanto riguarda le grandi aree urbane. All'Aquila un vero e proprio capolavoro che premia il lavoro di dieci anni di classe dirigente e il lavoro anche di questo centrosinistra ampio, di un vero e proprio campo riformista che dentro di sé ha anche i semi di una grande alleanza di centrosinistra che è stata ottimamente guidata da Chicco Di Benedetto. Ma voglio evidenziare come col giudizio elettorale di ieri si è riconosciuto anche il grande lavoro di una cultura di governo che ha visto nel sindaco precedente Massimo Cialente e nei suoi principali collaboratori e colleghi di sfida di governo un grande risultato. Così come è interessante oggettivamente un grande riconoscimento il risultato ad Avezzano dove il sindaco è stato capace di assumere impegni e mantenerli nei cinque anni passati ed è capace di farlo anche per i prossimi cinque anni. Davvero una grande stretta di mano a Gianni Di Pangrazio perché la questione di Avezzano era ancora più impegnativa. Sono molto soddisfatto per Spoltore. Mi piace molto il risultato di alcuni comuni, per esempio Tollo dove non avevamo dubbi ma soprattutto a Tessa con lo straordinario successo del centrosinistra a guida Giulio Borrelli e lì si dimostra quando uno lavora con tenacia, con intelligenza, con passione e scommettendo sulle idee alla fine i risultati arrivano. Sono dispiaciuto per alcune situazioni puntuali, per esempio ad Ortona e a San Salvo lì si rivela come dobbiamo rifertilizzare il territorio dal punto di vista del centrosinistra. A Ortona e a San Salvo. E anche qualche altra piccola realtà minore. Noi dobbiamo ricominciare a scommettere sull'immaginazione, sulla programmazione e anche su una certa radicalità programmatica. Per quanto riguarda invece l'esito dei cosiddetti contrarianti io non sono meravigliato. C'è un giornale in Abruzzo che ha scommesso sui contrarianti. Oggi quella classe dirigente e quel giornale raccolgono gli esiti dello zero della proposta politica.